Alla ventunesima giornata del campionato di Serie C, seconda del girone di ritorno, il Messina affronta la Virtus Francavilla. Inutile dire che si deve vincere, non importa come, ma l'imperativo è ottenere tre punti e risalire subito la china pericolosa. Per il campionato di Serie D e sull'impegno del Città di Sant'Agata in casa contro la San Cataldese diremo nel prossimo servizio, per cui saltiamo in eccellenza. Le partite sono tutte interessanti, per l'Ige Virtus c'è l'ostacolo esterno Ionica, poi altro derby dei due mari tra Milassa e Taormina. La Rocca Quedolcese sarà in casa contro la Virtus Ispica e la Nebros in campo esterno contro il Siracusa. Adesso la promozione, nel girone B domani si gioca Mistretta-Geraci, Casteldaccia-Profalcone, Castelbuno-Sanfratello e Gioiosalascari e riposa la Castelluccese. Nel girone C, Nuova Azzurra-Fenice, Calatabbiano, Sant'Alessio-Belpasso, Valle del Mela-Valdinisi e riposto Messana, riposa l'Atletico-Messina. In prima categoria, girone C, prima di ritorno, domani si gioca Nasitana-Petralia-Sottana, Tortorici-Futura, Petralia-Soprana-Rosmarino e Gangi-Real-Casale. Nel girone D, Aquila-Galati, Folgore-Milazzo-Orza, Nuova Rinascita-Monforte, Rodimili-Cilipari e Torregrotta-Stefano-Catania. In avanti la seconda categoria, domani si gioca Fitalese-Provinciale, Real Rocchenere-Alcara, Nuova Peloro-Vivi-Don Bosco e Juvenilia, Don Peppino-Cutropia, riposa e Rometta-Marea. Infine la terza categoria, comprensorio di Barcellona-Pozzo di Gotto, Mamertina-Oliveri, Protonnarella-Caronia, Stefanese-Fondachelli e Tusa-Castellumberto.